Vado, mi sentite? Sono Marco De Ponte, sono il direttore di ActionAid. La premessa di questa piccola chiacchierata più breve che cercherò di fare è che io penso che il ruolo di organizzazioni come le nostre, hanno parlato altri, sia proprio in gran parte nell'educazione di quello che si fa a scuola e penso che anche sulla questione alimentare ci sia tantissimo da fare e si possa fare tutti assieme. Per esempio nelle nostre scuole si consumano 380 milioni di pasti l'anno. Il problema della ristorazione collettiva nelle scuole, e dico problema, è anche una grande opportunità. Noi possiamo educare i nostri figli, possiamo fare in modo che gli insegnanti si avvicinino ai problemi, possiamo influenzare una partita che vale un miliardo e mezzo di euro e che quindi non è testimoniale. però siccome siamo un'organizzazione internazionale, dove andate? So, proprio quando parlo io. Va bene, no è tardi, quindi sarò breve. Siccome siamo un'organizzazione internazionale spesso si pensa che noi dobbiamo fare quella parte di spiegare alcuni dei macro problemi che sono in parte già stati affrontati, e io vorrei soffermarmi su uno in particolare. Mazza che esodo! Fat acid metilester. È una parolaccia mostruosa. È il nome tecnico di uno dei composti che più economicamente vengono definiti biofuel. Biofuel è invece una roba, una cosa fichissima, cioè rilassante. L'acronimo di fat acid metilester è fame. Volevo parlarvi di questo. Allora, i combustibili fossili inquinano, emissioni, responsabili principali del buco dell'ozono, tutti se ne accorgono, i limiti del pianeta, abbiamo ricordati prima, un grande momento di presa di coscienza induce gli stati e le istituzioni internazionali, l'Unione Europea, a ragionare sul fatto che bisogna incentivare l'utilizzo di energie rinnovabili. E quindi, per esempio, cosa succede? Che gli stati dell'Unione Europea scrivono due direttive, la RED, Renewable Energy Directive, direttiva sulle energie rinnovabili, e la Fuel Quality Directive, cioè una direttiva sulla qualità dei carburanti. Per spingerci a far cosa? Ad abbassare le emissioni a produrre più carburanti attraverso energie rinnovabili. E cosa facciamo? Beh, insomma, intanto forse, per farvi seguire questo ragionamento, bisogna ricordarci che le energie rinnovabili sono le biomasse, il vento, il sole. Le biomasse le abbiamo sempre utilizzate nella storia, si brucia la cacca e si fa un bel falò. Ma facendo, immettendo degli incentivi e facendo queste regole, nel giro di pochi anni in realtà espandiamo enormemente questo mercato. Il mercato dei combustibili biologici. E cosa facciamo? Creando questo mercato, creiamo un'anomalia di un sistema pieno di anomalie, in parte già ricordate da altri. E' sicuramente questo mercato. La risposta che Action Aid e altre organizzazioni che hanno anche parlato prima di me oggi si è data è assolutamente no. Perché non è sostenibile? Non è sostenibile perché, di fatto, si finisce con prendere della terra che è stata sempre adibita alla produzione di cibo, per coltivare altre piante, destinandone quindi l'uso ad altri scopi, per fare carburante. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che i contadini, i piccoli agricoltori che lavoravano su quelle terre non possono, diciamo, vengono posti fuori dal mercato, non possono più coltivare per mangiare. Poi produrre un litro di agrocarburante implica sprecare 2.500 litri d'acqua. I limiti della terra, abbiamo detto. Ci sono dei costi sociali. Se noi prendiamo della terra per coltivare colza, canna d'azienda, se vogliamo che è utile produrre agrocarburanti, spingiamo questo mercato creato artificialmente ad appropriarsi di terra per questo scopo. E dove la troviamo questa terra? Beh, prima è già stato menzionato, le stime possono essere un po' diverse, forse 20-30 milioni di ettari finora utilizzati per questo scopo. Ma dove sono? Non sono in Europa, la maggior parte, i due terzi, sono nei paesi poveri. Perché sono nei paesi poveri? Perché io, impresa che ricevo gli incentivi, io, Paperone Street o a Bruxelles o a Milano, ci sono 11 imprese italiane e in Italia questa partita può valere un miliardo e sei, non è simbolica. Vado a comprare le terre da chi le ha disponibili. E dove sono? I paesi che hanno disponibilità di terra sono quelle dove i diritti di proprietà non sono realmente, come dire, stabiliti. in Tanzania, in Senegal, ad Haiti. Quindi i contadini che stanno su quelle terre se ne devono andare, non hanno più da mangiare e tutto questo fa parte di quel sistema già ricordato, ho parlato di un problema specifico, ma di quel sistema già ricordato per cui tutta l'agricoltura si è finanziarizzata. Tutti gli input agricoli sono soggetti alle regole del mercato. Il cibo, l'acqua, anche la terra, anche la terra, sono diventati merce che si può immettere sul mercato secondo gli interessi, io che accumulo tanta terra, io che accumulo tante sementi, io che accumulo cibo, lo immetto sul mercato nel momento in cui il prezzo è più alto e quindi io che sono invece il paperino senegalese devo rincorrere questo prezzo. rincorrendo questo prezzo, se già spendo il 70% di tutto quello che guadagno per mangiare e il riso aumenta nel 2008 del 224%, io smetto di mangiare. ecco perché quella che ho usato prima, fat acid metilester, vuol dire fame. Ecco, bisogna stare attenti. Ho voluto parlare di questa questione degli agrocarburanti, ci si sta lavorando, non c'è un consenso sul fatto che gli agrocarburanti alla fine, partiti da una buona intenzione, producono fame. Io penso che se l'Expo sarà nel 2015, anno in cui c'è una nuova legge sulla cooperazione, anno nel quale si parla di coerente politiche finanziarie, agricole e commerciali, anno in cui si ristabiliranno i prossimi obiettivi per i prossimi 15 anni. Se in questo anno l'Expo deve significare qualcosa ed essere l'Expo dei popoli, bisogna dar da mangiare alle persone invece che alle macchine. Grazie.